Infuriano le polemiche circa le presunte relazioni pericolose fra la Lega e Mosca. In Russia esiste un'ideologia politica che giustifica le ingerenze nella politica europea. Per capirne di più abbiamo parlato con Vesela Chertneva, del Consiglio europeo per le relazioni estere, che sulle ingerenze del Cremlino afferma. La dottrina eurasiatica è una combinazione di geografia e valori. Si tratta di valori conservatori, che affascinano molte persone. Sono valori che cercano di negare l'illuminismo europeo e tutto quello che l'Europa ha conquistato sui diritti umani, sulle libertà individuali, sulla libertà di stampa. Ci sono molte persone al Cremlino che credono che fomentando un'agenda anti-gay, nazionalista, un'agenda che nega i diritti umani contro le regole europee, riusciranno a dividere l'Europa e ci riusciranno dall'interno. Diversi partiti hanno mostrato una vicinanza con il Cremlino e le sue teorie. Che cosa dovrebbe fare l'Europa per difendersi? La Chertneva risponde. Quello che dovreste fare è creare una specie di cordone sanitario attorno a quei politici troppo amici di Mosca in Europa, soprattutto nel Parlamento europeo e nelle altre istituzioni europee. E non siamo naif. In genere, chi è molto amico della Russia, lo fa per interessi finanziari. I politici che guardano alla Russia, si rendono conto che questo rapporto potrebbe diventare subalterno? Sono convinta che sottovalutino l'abitudine che ha la Russia di comprare politici in Europa e così facendo di espandere la propria sfera di influenza. Questa tattica sta pagando perché ci sono tante persone che ritengono l'Europa dovrebbe essere più sovrana, che gli Stati membri dovrebbero essere più sovrani in un contesto europeo e sfortunatamente questo è un contesto favorevole all'espansione russa.